Allora direi di iniziare, abbiamo avuto dei problemi tecnici perché non si avvia lo streaming, comunque partiamo con i lavori del nostro consiglio partendo dall'appello, quindi chiedo alla segretaria dottoressa Morelli di fare l'appello. Pula Paola, presente, Conficconi Elisa, presente, Lacchini Mauro, Brignani Rita, Berlicchi Giovanna, presente, Zamboni Roberto, assistente giustificato, Rubi Daniele, San Giorgio Andrea, Lacchini Mirko, presente, Panfile Liana, non ci senti, però non è legato allo streaming questo, che c'è qualcos'altro, eh? Eh, 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 il problema, facciamo qui, però non è collegato, non è legato allo streaming, il fatto che non ci senta perché funziona regolarmente, gli altri che sono collegati ci sentono? Io sì, io sento, voi vi sentite? Alice? Sì, anch'io vi sento, sento Luca. Va bene, grazie, quindi l'unica che non sente è Leliana. Sì. Quindi abbiamo Leliana collegata, ma non ci sente, mentre hanno dichiarato di non essere presenti, Bordoni, Molinaro e Finessi. Ok. Scrutatori, tutti gruppo di maggioranza a questo punto, quindi Berlicchi, Lacchini Mauro e Lacchini Mirko. Allora, partiamo con le nostre comunicazioni, con le comunicazioni del sindaco. La prima comunicazione riguarda le dimissioni della vice sindaco, le geometra Fabri, che sono state consegnate attraverso lettera fatta recapitare alla sottoscritta, alla giunta e ai capigruppo, in data 9 di gennaio. Le motivazioni sono riportate nella lettera, quindi i consiglieri comunque sono adotti, sono motivazioni che non giustificano, se non una scelta di tipo personale, con anche l'idea di attivarsi anche per un percorso di tipo diverso. Ricordo che l'ultimo suo contributo in consiglio comunale è venuto il 30 di novembre, con la presentazione della DUP, quindi del documento unico di programmazione, quindi facendo anche le veci mie come presidente del consiglio, quindi diciamo che lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto in questi anni e vedremo come si impegnerà per la nostra comunità. Poi alcune comunicazioni, naturalmente a seguito di queste dimissioni, le deleghe che lui ricopriva, che sono state tutte assorbite da sindaco, quindi urbanistica, edilizia, lavori pubblici e patrimonio, polizia locale, legalità e sicurezza, quindi non si aggiunge un altro assessore alla giunta essendo infine mandato, mentre il ruolo di vice signoco l'ho attribuito all'assessore Raffaella Gasparri. E questa è la comunicazione che dovevo. Poi altre comunicazioni molto veloci attengono a degli eventi importanti che si realizzano la prossima settimana, e questa è giovedì 29 febbraio presso il Teatro Goldoni Bagnacavallo, ci sarà l'appuntamento per il sedicesimo anno dell'Unione, quindi è un'occasione per fare il punto un po' di come questa storia istituzionale che sia vissuta dai nuovi comuni e sia così caratterizzante la Bassa Romagna. L'appuntamento è aperto a tutti, bisogna prenotare solo perché si svolge pomeriggio con un finale, con le conclusioni dell'assessore regionale Paolo Calvano e con uno spettacolo con Maria Pia Timo. Poi ricordo l'iniziativa che è stata patrocinata dal Comune di Consecce dal 4 marzo presso la Sali Gabbiano, è organizzata dalla SPI CGL e dalla CGL con a tema l'assetto del territorio dopo l'alluvione, ci sarà la presenza anche dell'assessore nonché vicepresidente della regione Irene Priolo, quindi un'occasione per fare il punto un po' della situazione per quanto riguarda di post-alluvione e quindi gli interventi fatti sul nostro territorio e le altre considerazioni rispetto al sistema dei contributi, il sistema del riconoscimento dei danni e tutte le ricadute anche per gli interventi sul patrimonio pubblico. Poi faccio alcune altre comunicazioni molto veloci, il 2 di marzo l'associazione della saga del Tortellone di San Patrizio ripropone l'Oma Mersa, quindi alle 19 presso la piazza e poi sempre sabato 2 marzo a Villa Verlicchi ci sarà l'apertura di due mostre curate dall'Ambeto Caravita che è il direttore del nostro Museo Caba, quindi l'apertura e l'inaugurazione sono nel pomeriggio di sabato prossimo e l'8 marzo ci saranno varie iniziative, vi ricordo quella che viene organizzata col patrocinio anche del Comune al Centro Sociale di Lavezzola ed è la presentazione di un libro di Nadia Giberti con l'introduzione dell'assessore Raffaella Gasparri. Queste sono le cose più significative di chi vi volevo dire. Andiamo avanti con il nostro ordine del giorno, abbiamo una... un punto numero due, un punto ritenuto da noi molto importante, è quando dopo l'alluvione come Comune abbiamo inoltrato varie richieste di relazioni dettagliate su come sono state servite e che sono svolte alcuni servizi sul nostro territorio, in particolare abbiamo chiesto di attivare un tavolo di confronto e anche uno studio tecnico per quanto riguarda il sistema fognario per vedere di migliorare, diciamo, il diffuso delle acque dal nostro centro urbano ben sapendo che con le rotture dei fiumi poco si può fare, però si può fare molto per riuscire a migliorare quello che è, a ottimizzare meglio quello che è la nostra rete fognaria. Questo lavoro abbiamo proseguito in questi mesi, quindi sono stati mesi di lavoro da sostanzialmente luglio, giugno-luglio 2023, un tavolo di confronto che è stato attivato sotto legge di Atesir, che è l'agenzia regionale che si occupa delle reti, delle reti idriche e dei rifiuti e questo tavolo, visto il confronto e anche l'apporto, la collaborazione con il socio di bonifica, naturalmente è di ERA, ERA come gestore, il socio di bonifica come gestore dei canali di scolo del nostro territorio. Sapete che il nostro sistema fognario è un sistema misto, quindi ha interferenze che riguardano anche la composizione di quella che è la rete di scolo del nostro territorio e quello che vi presentiamo stasera per noi è un punto importante di lavoro perché, come avrete modo poi di sentire, questo studio ha prodotto anche delle proposte, proposte diciamo concrete di ottimizzazione e miglioramento e quello che dovremmo cercare come amministrazione è di trovare le risorse a copertura di questi interventi che si rendono per noi necessari. Io quindi non aggiungo altro perché lascerei la parola ai nostri ospiti e che ringrazio perché so che hanno lavorato molto su questo aspetto, quindi facendo anche dei sopralluoghi, tra l'altro il comune ha anche attivato uno studio altimetrico di quello che è il nostro centro urbano che è anche servito poi al gestore stesso proprio per la modellazione e per la conoscenza maggiore del nostro sistema fognario. Con noi quindi sono l'ingegnere Luca Bonfiglioli e l'ingegnere Elisa Ferri. Loro presentano la prima parte, diciamo loro sono di ERA Tech, quindi la parte tecnica di ERA, quindi del gruppo ERA S.P.A. e quindi vi proporranno l'analisi idraulica e strategica diciamo per l'ottomizzazione, le strategie per l'ottomizzazione del sistema di drenaggio urbano di Consejo. Quindi è diciamo la restituzione di questo studio fatto sul nostro territorio, sul sistema fognario. Prego, non so chi introduce. Parto un secondo io, poi passerò la parola a Elisa che è la principale di questo studio e giusto per dare continuità al percorso svolto e alla volta precedente in cui ci siamo incontrati, che è stato nel luglio se non sbaglio del 2023. Dopo un primo ingaggio nel giugno in cui subito nel mio dato posto all'ovione abbiamo iniziato a parlare di questo studio in maniera molto embrionale, fornito come risposta a quelle che erano le richieste di chiarimento sul funzionamento del sistema fognario, sia durante l'evento alluvionale, ma più in generale, in merito di avere riscontri su criticità riscontrate dalla popolazione, dall'amministrazione. Adesso riguardando l'elenco degli appunti, degli incontri fatti, dei sopralluoghi, le attività svolte, devo dire che è stato svolto un lavoro molto articolato e è stato anche un lavoro sperimentale per noi come approccio, perché a parte la rapidità con cui è stato svolto, perché in pochi mesi si è riusciti a mettere, sia a sviluppare il modello, sia a ottenere le risposte che si hanno portato a pianificare gli interventi, alcuni dei quali li abbiamo già messi in campo in realtà, perché gli interventi sui clapè, come vedremo, li abbiamo messi immediatamente in campo come promesso durante il precedente incontro. È stato sperimentale anche nell'approccio, mi viene da dire, del dialogo col consorzio, perché secondo me è stato un dialogo estremamente efficace in un territorio come quello di consorzio in cui le interferenze di cui parlava il sindaco sono effettivamente determinanti e il dialogo fra gli enti e gestori è fondamentale per risolvere le problematiche in essere e questo dialogo è stato secondo me estremamente attivo e proficuo, con una condivisione di dati a più riprese e molto importante. Non è il punto di arrivo finale, nel senso che abbiamo individuato delle strategie di intervento, alcune di queste sono già in un orizzonte di finanziamento bene o male delineato, altre necessitano di, come vedremo, fonti di finanziamento e ricerca di finanziamenti più strutturali. Però siamo confidenti del fatto che sia questa la strada da seguire per andare a risolvere le problematiche che sono, come vedrete, quelle che erano state rilevate e da noi, dall'ente gestore e dall'amministrazione e anche da quel confronto che avevamo avuto durante l'incontro del luglio, anche in diretta con alcuni dei cittadini, per quelle che sono determinate problematiche locali, che siamo riusciti a ricondurre a perimetrazioni e aree di intervento strategici determinati. Detto questo, non voglio essere più lungo di così, passo la parola a Elisa. Facciamo parte, non l'ho detto, come diceva il sindaco comunque di Eratec, in particolare siamo della struttura di ingegneria di Eratec, che è la parte diciamo più ingegneristica e che si occupa della pianificazione e della determinazione di studi per interventi strategici del gruppo ERA e ha collaborato con noi chiaramente anche la struttura o meglio il vero presidio operativo del territorio è il collega Marcello Togni, che molti di voi conosceranno e anche colleghi territoriali come Minoccheri ci hanno dato una mano enorme per quelli che sono anche rilievi fatti in campo, anche con l'ausilio di mezzi e altre iniziative fatte territorialmente. Passo a te la parola Elisa che poi sai tutto meglio di me. Buonasera, sono l'ingegner Ferri, quindi lavoro in, come ha detto Luca, in ingegneria in particolare nella struttura di modellazione e mi occupo in particolare di costruire dei modelli fluidodinamici delle reti idriche, reti fognari in particolare. Ed è quello che abbiamo fatto anche per l'abitato di Conselice dopo l'alluvione diciamo di maggio 2023 c'è stato richiesto di approfondire il funzionamento di tutta la rete di drenaggio delle acque meteoriche urbane e di proporre interventi e strategie per la sua ottimizzazione. Per costruire il modello e quindi fare un'analisi idraulica affidabile, però oltre alle informazioni della rete propria fognaria gestita da noi come era, è stato necessario integrare informazioni anche sulla rete di scollo gestita dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, questo perché ovviamente il territorio e il sistema di drenaggio di Conselice vede numerose interferenze tra reticoli di scollo e quelle che sono le vere e proprie reti fognarie. In particolare qui vediamo un po' un inquadramento del territorio dove vediamo i principali reticoli di scollo del territorio e tutti i nostri punti di scarico, ovvero tutti quei punti in cui la rete fognaria di Conselice che come diceva il sindaco è una rete fognaria di tipo misto, ovvero drena sia le acque nere in tempo secco che poi vanno verso l'impianto di depurazione, ma anche le acque meteoriche in tempo di pioggia, una parte delle quali poi deve essere scaricata principalmente nei reticoli di scollo del gestito dal Consorzio. In particolare qui abbiamo un po' inquadrato tutto quello che è il sistema gestito da noi come era, quindi parliamo dell'agglomerato di Conselice, ovvero tutta la rete che afferisce al depuratore di Conselice che vede in particolare l'abitato di Conselice assieme a tutte le frazioni di San Patrizio, Chiesa Nova e Giovecca che afferiscono a questo depuratore. Per quanto riguarda invece il reticolo idrografico e di scollo interferente con la nostra rete, diciamo che le principali interferenze sono lo scollo bisostre che è diciamo uno scollo che nasce a circa due chilometri a sud di Conselice e lo scollo una volta arrivato vicino al centro abitato di Conselice viene tombato e qui come vedremo poi ci sarà un approfondimento anche in seguito, qui diciamo viene gestito con una paratoia manuale in modo da non permettere alle acque di entrare all'interno dell'abitato di Conselice in tempo secco, ovvero quelle acque che vengono utilizzate in particolare ad uso e riguo non entrano nell'abitato di Conselice mentre invece per la sicurezza idrografico in tempo di pioggia quelle paratoie vengono rimosse e lo scollo bisostre quindi entra all'interno dell'abitato di Conselice tombato fino ad arrivare in via Zoppa dove diciamo si trasforma, comunque sfocia nel diversivo in valle. Il diversivo in valle successivamente raccoglie tutta un'altra serie di acque meteoriche drenate dalla fognatura che vengono scaricate dal diversivo in valle che poi Pia Valle diciamo porta verso l'impianto di Rovolo Sabadina che scarica poi nel canale di Bonifica il gesto di Reno. Qui abbiamo un po' fatto una sintesi quindi abbiamo parlato anche dello scollo zaniolo che però non ha interferenze con la nostra rete fognaria e il canale dei molini, anche questo senza connessioni ad oggi. Qui appunto approfondiamo un po' il bisostre perché diciamo che è la principale interferenza in quanto il bisostre effettivamente entrando nel centro urbano di Conselice da diciamo scollo diventa una vera e propria fognatura mista ovvero le nostre fognere capitano direttamente all'interno del bisostre tombato e questo significa che appunto diciamo i problemi principali che però può dare questa interferenza sono in tempo secco il fatto di magari avere acque diciamo di tipo noi le chiamiamo acque parassite cioè ovvero sono acque che servirebbero per l'irrigazione che però possono entrare in rete in tempo secco e quindi arrivare al depuratore dove in realtà dovrebbero arrivare solo in tempo secco acque nere. Invece in tempo di pioggia come vediamo il bacino di scollo del bisostre è molto più grande rispetto a quello che dovrebbe essere il solo bacino urbano quindi le acque meteoriche che dovrebbero effettivamente entrare in fognature in fognatura e quindi una parte di questo bacino di circa 212 ettari in tempo di pioggia in realtà riempie quella che dovrebbe fungere da fognatura e quindi raccogliere le le acque solo le acque meteoriche urbane. Esiste però un impianto idrovoro l'impianto idrovoro acquagios che ad oggi è gestito dal comune di Conselice che dovrebbe deviare questa parte di acque meteoriche che arrivano dal tratto a monte del bisostre verso lo zaniolo di modo da scaricare invece il tratto urbano del bisostre. Qui abbiamo fatto diciamo quindi lo studio ha avuto un po' questi step, il primo step è stato un po' inquadrare il territorio, inquadrare tutte le interferenze che ci sono con i canali gestiti dal consorzio e inquadrare poi anche le criticità, quindi abbiamo un po' censito tutte quelle che sono state le segnalazioni ricevute dal pronto intervento andandole anche a georeferenziare, a capire quali erano i punti più critici della rete. Effettivamente non sono tantissime le segnalazioni che noi abbiamo ritrovato all'interno del nostro database di pronto intervento, poiché molte segnalazioni in realtà vengono ricevute direttamente dal comune, quindi è stato il comune che ci ha fatto da tramite per capire i punti dove effettivamente sono più frequenti allagamenti e i punti più critici della rete, come ad esempio sono state segnalate la parte diciamo a nord del campo sportivo, come le zone di via Benati e via Gagliazzona. Da qui poi siamo andati a costruire un vero e proprio modello fluido dinamico della rete fognaria, andando quindi a utilizzare un modello all'interno del quale abbiamo inserito tutte le informazioni sulla rete da noi gestita, quindi rete fognaria di tipo misto, creando quindi una copia diciamo virtuale della rete e andando a modellarne il funzionamento. Visto diciamo i tempi che comunque erano abbastanza stretti, si è deciso di concentrarci solo su l'abitato e vero e proprio di conselice e non su tutta la rete, quindi su tutto l'agglomerato. Quindi in realtà gli apporti di apporti che abbiamo definito come secondari, quindi tutte le altre frazioni che afferiscono poi la rete di conselice, come Chiesa Nuova, San Patrizio e Giovecca, sono stati diciamo semplificati, ma per il momento le reti di queste zone non sono state effettivamente modellate. e oltre a inserire quindi tutte le informazioni sulla nostra rete gestita, abbiamo fatto delle ipotesi, abbiamo dovuto fare anche delle ipotesi e integrare dei dati che ci sono arrivati dal consorzio di bonifica, quindi dati relativi ovviamente al bacino drenato dal bisostre, che quindi non è in nostra gestione, ma in gestione al consorzio. Abbiamo fatto, diciamo, delle ipotesi di scenario, ovvero abbiamo fatto, diciamo, in prima battuta una modellazione della nostra rete fognaria senza tenere conto di eventuali apporti da monte, quindi per capire quelle che potevano essere, senza tenere conto, né degli apporti di monte, né delle condizioni del diversivo in valle, a valle dei nostri scarichi, per capire quelli che potevano essere eventualmente i punti da ottimizzare della nostra rete, al di là di tutte le altre condizioni al contorno e anche perché effettivamente un evento di pioggia di tipo breve e intenso, quindi di tipo temporalesco, dovrebbe mettere in crisi il sistema fognario, ma non i canali del consorzio, quindi in queste condizioni teoricamente i canali del consorzio dovrebbero essere abbastanza, diciamo, scarichi per poter ricevere le acque meteoriche dell'abitato di Conselice scaricata dalla fognatura. Poi abbiamo invece fatto anche delle simulazioni in cui abbiamo ipotizzato invece un evento che potesse vedere la concomitanza sia, diciamo, di elevate, di una pioggia, diciamo, intensa sul bacino drenato dalla fognatura sia a dei livelli alti anche nei canali del consorzio. Teoricamente, comunque, come dicevamo anche prima, le portate del bacino a monte del bisostre dovrebbero essere deviate dall'impianto idrovole acquaggioso, di cui poi dopo comunque l'ingegnere Silvani parlerà, però ad oggi non è così, nel senso che le idrovole non sono sempre del tutto funzionanti e l'opera di presa non è, diciamo, del tutto conforme, quindi in realtà una portata che si può girare attorno ai 600-200 litri al secondo, comunque durante eventi di pioggia potrebbe entrare nella rete fognaria. Come dicevo, abbiamo fatto anche poi delle ipotesi sui livelli del diversivo in valle, perché il diversivo in valle ad oggi ha la possibilità, diciamo, esiste la possibilità di laminare nelle cosiddette vasche di espansione del bosco urbano di Conselice. Queste vasche di laminazione vengono attivate, quindi da una soglia che si attiva quando il diversivo in valle ha, diciamo, un livello di riempimento di circa due terzi della sua massimo riempimento. Quindi abbiamo ipotizzato, diciamo, questo livello come livello massimo e abbiamo simulato anche per capire che cosa, diciamo, se questo livello di soglia comunque ci permette o meno di scaricare adeguamente nel diversivo in valle le acque meteoriche. Tutte questi, diciamo, prima di fare però tutte queste simulazioni con tutte queste, diciamo, condizioni al contorno ipotesi, abbiamo, diciamo, anche fatto una verifica, cioè una verifica, sì, abbiamo anche analizzato quello che è stato un po' l'evento di maggio 2023. L'evento di maggio 2023, in realtà, dal punto di vista delle precipitazioni effettivamente cadute su Conselice o comunque localmente, è stato un evento, dal punto di vista semplicemente delle piogge, un evento che ha avuto un tempo di ritorno molto basso, ovvero non è stato un evento intenso che avrebbe messo in crisi le reti fognarie. Quindi, stimolare, diciamo, un evento del genere sul modello della rete fognaria l'abbiamo fatto, ma aveva poco senso, nel senso che anche solo facendo un'analisi statistica di quello che sono stati i millimetri di pioggia caduti, rilevati sul territorio, è un evento che può essere benissimo gestito dalle reti fognarie in normali condizioni di esercizio, quindi normali livelli negli scoli del consorzio, normali livelli nei fiumi. Quindi, diciamo che, appunto, questo studio è nato da una richiesta a seguito dell'alluvione, però questo studio non ha la finalità, o comunque non può avere la finalità, di prevedere degli interventi sulla rete fognaria che possano far fronte a quello che è stato un evento come quello di maggio 2023. Quindi, invece, quello che noi possiamo fare e quello che effettivamente abbiamo fatto è è stato cercare di ottimizzare il sistema di drenaggio urbano per, diciamo, due casistiche, ovvero il primo caso è un caso in cui ho un temporale, quindi una pioggia breve, intensa e localizzata e in questo caso le principali criticità che mi possono nascere sono criticità del sistema fognario di tipo misto, quindi una capacità di drenaggio delle reti gestite da noi come era. In questo caso le soluzioni sono l'ottimizzazione e il potenziamento del drenaggio urbano. Il secondo caso, invece, sono piogge più persistenti, più diffuse e più prolungati nel tempo che possono dare luogo a livelli alti negli scuoli del consorzio e quindi livelli alti in quelli che sono i nostri, sono, diciamo, i ricettori della nostra rete fognaria. In questo caso gli interventi che proporremo e che sono nati dal confronto tra ERA, Comune e Consorzio di Bonifica sono proprio interventi di ottimizzazione dell'interazione tra fognatura e canali di scuolo del consorzio. Quindi, diciamo, il primo mezzo che abbiamo un po' noi come gestore delle reti fognari per difenderci da quelli che sono i livelli alti nei canali gestiti dal consorzio sono ovviamente le valvole di non ritorno, ovvero quei manufatti fanno sì che l'acqua all'interno degli scoli non rientri nella rete fognaria, nel momento in cui però, per vari motivi, gli scoli sono pieni ma non sta piovendo effettivamente a conselice, quindi la rete fognaria non è piena. In questo caso queste valvole si chiudono e la rete fognaria rimane scarica e non, diciamo, impedisco all'acqua che invece è negli scoli di entrare nella mia rete. Quindi, diciamo, dopo l'alluvione sono state di nuovo ricensite di nuovo tutte queste valvole antiritorno e si sono ripristinate, diciamo, quelle che magari dopo l'alluvione erano, a seguito dell'evento alluvionale, erano risultate magari malfunzionanti. In seconda battuta, invece, appunto, abbiamo simulato le condizioni della rete fognaria, quindi abbiamo modellato la rete fognaria anche assieme, diciamo, alle ipotesi, alle informazioni che abbiamo ricevuto dal consorzio. E, diciamo, i principali risultati sono stati, diciamo, appurare che, a causa comunque delle quote dell'orografia di conselice, i livelli, anche, diciamo, livelli non altissimi all'interno dello scolo diversivo in valle, ovvero anche livelli, livelli, diciamo, quei livelli che vengono mantenuti, diciamo, a due terzi da un'eventuale laminazione del bosco urbano, comunque possono dare dei problemi allo scarico della nostra rete fognaria. Anche con eventi, diciamo, intensi, ma eventi, noi chiamiamo il tempo di ritorno a dieci anni, che quindi sono eventi intensi, ma che dovrebbero essere correttamente comunque gestiti dalla nostra rete fognaria. Perciò, diciamo, che la, diciamo, la soluzione che abbiamo individuato come tecnicamente migliore potrebbe essere quella di andare a laminare direttamente le reti, diciamo, l'acqua proveniente dalle reti fognarie all'interno del bosco urbano di conselice, attraverso l'installazione di un sifone, quindi una condotta che passerà sotto il canale diversivo in valle, che si attiverà, diciamo, nel momento in cui i livelli in rete iniziano a diventare elevati. Per far questo, come era, abbiamo previsto comunque una, diciamo, un intervento aggiuntivo, che è quello di raddoppiare quella che è la condotta di via Fabri, quindi andare a posare una nuova condotta di diametro comunque importante, che aiuti il drenaggio verso il diversivo e quindi anche verso l'eventuale laminazione nei boschi urbani. Per far questo, ovviamente, sarà necessario ripristinare correttamente tutti i volumi di laminazione del bosco urbano, che servono comunque a laminare il diversivo in valle e cercare di aumentare anche questi volumi, di modo da poter laminare anche direttamente le acque meteoriche urbane che arrivano dalla rete fognaria. Questo però, diciamo, questo intervento sicuramente andrebbe ad aiutare il drenaggio, in caso quindi di questi eventi in cui ho concomitanza di livelli elevati nel diversivo, però diciamo che non tutto l'abitato di Consigli ci riuscirebbe a beneficiarne, perché andando a fare, diciamo, seguito un po' anche dei rilievi che ha fatto il comune, quindi sull'altimetria e comunque andando a simulare l'effettivo comportamento di rete, ci sono zone che effettivamente sono più basse, che quindi hanno maggiori problemi di drenaggio e che sono anche effettivamente lontane da quella che è la laminazione del bosco urbano. In particolare, come vedremo in una mappa che abbiamo messo dopo, con il, diciamo, dove rappresentiamo un po' livello del terreno di Consigli, c'è la zona a nord del campo sportivo, è una zona particolarmente bassa, quindi diciamo che qui comunque l'intervento di, diciamo, di collegamento con le vasche di espansione del bosco urbano avrebbe un beneficio, cioè questa zona avrebbe sicuramente un beneficio inferiore. Quindi, secondo noi, la cosa migliore, oltre a questo intervento, sarebbe quello di di andare a prevedere anche delle piccole laminazioni locali su, in questa zona, sfruttando magari le aree verdi che esistono, quindi i parchi pubblici. In questa mappa, appunto, vediamo, abbiamo voluto un po' mettere quello che è il DTM, cioè il modello digitale del terreno, in cui vediamo in rosso sicuramente le aree più basse, dico in selice, e man mano, diciamo, andando verso il verde, le aree più, altimetricamente più alte. Quindi si vede proprio che nella zona, diciamo, che noi abbiamo chiamato campo sportivo, c'è una zona più bassa, che quindi fa fatica a drenare verso gli scarichi del diversivo in valle. Queste tre aree che abbiamo individuato sono, diciamo, le aree in cui, in generale, abbiamo riscontrato come dell'azione, ma anche, diciamo, un po' confrontandoci con le segnalazioni che sono state fatte, sono quelle un po' più critiche dal punto di vista del drenaggio e quindi su cui comunque noi, come era, prevederemo degli interventi di potenziamento di alcuni tratti di rete che ottimizzeranno quindi il funzionamento della rete fognaria. Abbiamo previsto una serie di interventi che si declinano, diciamo, in diverse priorità e quindi anche diversi orizzonti temporali che abbiamo deciso di dividere, diciamo, in due stralci. Nel primo stralcio abbiamo inserito gli interventi prioritari, tra cui quello che vedevamo prima di via Fabri, quindi del raddoppio della condotta di via Fabri, che è proprio ideotico anche poi all'intervento che prevederemo assieme al consorzio, quindi di andare a laminare, diciamo, di laminazione del bosco urbano e altri interventi nella zona che noi abbiamo chiamato zona scuola e comunque la zona di via Verdi e via, quella che, diciamo, adesso non sono di conseguenza, scusate, era una zona più nord e in questa zona e, diciamo, l'abbiamo chiamato priorità zero e priorità uno ed entreranno, diciamo, nel primo stralcio. Gli altri interventi che abbiamo individuato li abbiamo messi con priorità, diciamo, anche inferiore, soprattutto perché nella zona del campo sportivo gli interventi che abbiamo previsto di potenziamento presuppongono però che io possa sgravare la rete da quelli che sono gli apporti del bacino di Monte del Bisostre. Perciò, prima di poter fare questi interventi di potenziamento, si necessita, diciamo, la rimessa in funzione dell'impianto idrovoro AquaJoss, che è il corretto funzionamento di questo impianto, di modo da poter avere il Bisostre libero per ricevere effettivamente gli apporti della rete fognaria. Per questo, diciamo, temporalmente saranno successivi poiché prima si presuppone quest'altro intervento. Per quanto riguarda appunto questo intervento, faccio parlare l'ingegner Silvani. Sì, guarda. Proseguo per un paio di slide, sono Paola Silvani, direttore tecnico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, e un appunto su quello che è stato il tavolo di lavoro che ci ha permesso di dare uno sguardo veramente sia di insieme, dal micro al macro e viceversa, alle problematiche idrauliche nell'area dell'abitato di Conselice. È un modo di lavorare che difficilmente eravamo riusciti a mettere in pratica in passato, anche perché ognuno tende a guardare le proprie reti, le proprie problematiche e non ad allargare lo sguardo o ad abbassarlo. E lo vedete anche nel nostro lessico che usiamo, quelle che sono le acque parassite per era, per noi sono un servizio irriguo indispensabile per dare un servizio importante a tanta parte del comune, anche se non è l'area urbana ma è l'area di contorno. Così come quelle che citavamo era come interferenze, parliamo del reticolo di bonifica che è quell'insieme di scuoli artificiali che smaltiscono le acque meteoriche che piovono su questo territorio e le portano fino al recettore finale, che è il mare Adriatico. Quindi noi abbiamo un abitato con Selice a 3, 4, 5 metri sul livello del mare, a 50 km dal mare e le acque che piovono su questo territorio devono essere raccolte sia dalla campagna sia dal centro abitato e smaltite fino al mare. Quindi ecco vedete come lo studio delle problematiche non poteva essere fatto in un altro modo se non collaborando proprio guardando tutte le criticità ai vari livelli e penso che sia stato ben presentato il lavoro che abbiamo fatto in sinergia. Tre slide come consorzio di bonifica legate a questo studio che era portato avanti dal punto di vista tecnico e della simulazione idraulica. Parlavamo del bisostre quindi di quanto lo scolo bisostre che rimane scolo consorziale di bonifica anche nel momento in cui è stato combinato e quindi è stato inglobato nel centro urbano si deve far carico ed è la sua funzione di scolo principale storicamente di farsi carico di smaltire le acque meteoriche anche del bacino di monte che è in parte agricolo ma in parte anche impermeabilizzato, produttivo e quindi non poteva essere assolutamente ignorato in una simulazione così precisa. Un'ipotesi che sicuramente era già stata vagliata perché l'impianto idrovoro acquaggioso non era nato per caso ma queste simulazioni hanno fatto capire quanto può essere strategico per l'abitato di conserice andare ad ottimizzare il funzionamento di quell'impianto. Cosa significa? Che lo scolo consorziale bisostre a monte del tratto tombinato quindi prima dell'ingresso nel centro abitato attualmente c'è uno sbarramento per il contenimento solo delle acque irrigue che sarà comunque in accordo con il comune migliorato per essere più attenti nell'evitare che le acque irrigue possano entrare nel sistema foniario delle acque nere quindi questo è per la corretta gestione del depuratore, meno importante dal punto di vista delle alluvioni di cui stiamo parlando però comunque un funzionamento da tenere in conto. Sicuramente è già stato realizzato l'impianto idrovoro oggi di competenza comunale nel quale è in corso una manutenzione straordinaria per averne la piena funzionalità ma quello che abbiamo visto è che può essere migliorato questo impianto sia dal punto di vista dell'impiantistica sia dal punto di vista dell'effettiva devestione dello scolo consorziale bisostre verso l'impianto di pompaggio che immette le sue acque nello scolo consorziale quindi anche dal punto di vista ecologico sono comunque acque che devono essere sollevate per essere portate al recettore finale quindi che rimangano nel bisostre e vanno poi all'impianto sabbadina o che le rieviamo prima con l'impianto idrovoro e le mettiamo in zaniolo sono comunque acque che in qualche modo dobbiamo sollevare. In questo momento deve essere migliorato sia l'impianto con manutenzione straordinaria che come dicevo già in corso sia la derivazione effettiva del bisostre quindi quello che proponiamo come miglioramento da candidare a un finanziamento importante legato anche a piani straordinari è l'automazione la creazione nel punto dove oggi c'è un panconamento legato all'irriguo di una vera e propria paratoia automatica che possa davvero gestire al meglio le acque del bisostre e ogni volta in cui l'impianto non abbia problemi e lo zaniolo possa riceverle queste vengano bloccate rispetto all'ingresso nel centro abitato ed effettivamente deviate verso lo zaniolo. Dall'altra parte se questo è lo scopo dobbiamo dare a quell'impianto anche delle portate maggiori quindi la completa capacità di smaltimento delle acque del bacino di monte quindi il terzo step di ciascuna di queste due elenchi di cose da fare naturalmente deve essere candidato a un finanziamento importante. Questo per quello che riguarda il consorzio dal punto di vista delle condizioni al contorno rispetto agli studi fatti e del resto quello che è risultato importante che l'ingegner Ferri ha ha ben spiegato ma lo ribadisco è che la morfologia del territorio che purtroppo conosciamo abbiamo conosciuto ancora meglio a maggio ma è risultato evidente alle simulazioni abbiamo parti di rete fognaria che è più bassa rispetto alla quota media di un canale di bonifica quindi alla prima simulazione uno può dire ma perché non teniamo i canali vuoti è logico i canali devono fare il loro lavoro scolare i bacini di monte quindi le soluzioni devono essere altre la laminazione la deviazione. Lascio concludere ingegner Ferri o Luca? In realtà l'ultima slide diciamo che è una slide epilogativa finale a quattro mani nel senso che alla fine di tutto questo percorso ognuno si è chiesto cosa potesse fare e diciamo siamo un po' ripartiti i compiti. I primi due interventi che vedete sono i due blocchi di interventi presentati prima da Elisa riguardano quindi gli interventi in priorità zero e priorità uno e priorità tre su quelle che è il reticolo di drenaggio urbano e quindi principalmente il reticolo misto di fognatura e sono interventi che in particolare per quanto riguarda via fabbri verranno attuati proprio nell'immediato già il collega Togni al lavoro per iniziare a definire la fattibilità del primo straccio di interventi quello di via fabbri che secondo noi è quello prioritario anche perché è il fattore abilitante poi all'esecuzione del secondo blocco di interventi che è quello per cui in particolare il consorzio si sta sta aiutando a definire quella che è una ricerca di fonti strategie di finanziamento in particolare sta puntando ai piani straordinari commissariali. Di cosa parliamo? parliamo sempre di ciò che abbiamo visto prima quindi oltre al ripristino della ghettia del bosco urbano con volti anche questa nuova doppia funzionalità quindi che è quella di laminazione sia del canale sia del una quota parte della delle portate miste l'intervento di ripristino di funzionamento di ritrovola aquazos e per la sua rimessa in funzione con questa finalità diciamo potenziata e anche funzionalmente migliorata nell'ottica di sinergia con reticolo fognario e l'intenzione è quella di provare a inserire dentro questa fonte di finanziamento anche le due nuove laminazioni di cui prima parlava Elisa all'interno di area urbana e un ampliamento dei laghetti del bosco urbano di Conselice la prima riga fa riferimento al solo ripristino della situazione post evento alluvionale e infine un ulteriore intervento di installazione di un apparatoio motorizzata in ingresso all'abitato sul bisostre che sarebbe un ulteriore passo in avanti per il miglioramento di quelle che noi chiamiamo interferenze ma come giustamente l'insegner silvagni diceva sono due facce della stessa medaglia che il drenaggio delle acque da qui dall'abitato fino al mare non so se ringrazio per l'esposizione perché davvero è stato un lavoro di collaborazione piena e anche un tavolo continuo che ha affrontato questi temi quindi in sostanza che cosa abbiamo appurato abbiamo appurato che il nostro territorio cioè queste non sono opere di difesa idraulica queste sono proposte di miglioramento di ottimizzazione del deflusso delle acque meteoriche dal nostro centro che già avete capito ha qualche problema intrinseco legato come è costruita con Selce quindi ha delle zone molto basse quella piantina che faceva riferimento alle zone colorate dal nel senso della della poca altitudine che hanno alcune parti di con Selce che sono poi stato oggetto anche di allagamenti importanti e già un primo risultato che questo questo studio ha messo in evidenza quindi già un prima serie di pacchetti di azioni inserite nel poi che il piano operativo degli investimenti del servizio idrico integrato che quelle quindi vanno sono i più prossimi insomma sono in ordine diciamo di una graduatoria di priorità sono le primi interventi l'altra cosa importante che abbiamo realizzato è come avete capito il sistema è misto quindi c'è un'interferenza col consorzio di bonifica con canali che hanno un'altra funzione che hanno funzione di portare l'acqua di portare via l'acqua prevede appunto questa la miglior soluzione possibile per consegge per cercare di migliorare diciamo di rallentare diciamo l'inserimento dell'acqua attraverso i bisostri nel nostro sistema nel nostro sistema di fognario quell'idea che ci siamo fatti noi come amministrazione però su cui concorriamo tutti è di vedere di poter portare alla struttura commissaria la regione questo pacchetto di proposte la parte diciamo seconda della slide no forse dall'ultima che quella del ripristino dell'idrovole acquaggios del comune il ripristino è una parola neanche giusta nel senso che di fatto è nato in un modo quella struttura vuol dire un ridisegno della 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 funzionalità di quella di quel sistema idrovole perché adesso non ha non ha la portata né diciamo di tipo potenziale elettrico né di sistema per assolvere quella funzione che invece pensiamo di poter diciamo rafforzare attraverso questo eh sgravamento la dico così nel termine giusto eh delle acque dentro al bisostre quindi questo pacchetto di proposte noi vorremmo presentarli inoltrarle alla struttura commissaria abbiamo già anticipato la regione per vedere se nei piani speciali che stanno redigendo a dir la verità lo stanno redigendo sui fiumi però vediamo un po' se in qualche modo ho capito anche che dovrebbe esserci forse un'ordinanza anche sulle reti se possa essere finanziato perché chiaramente si tratta di impegni eh economici importanti ancora non li abbiamo quantificato l'altra idea la proposta qui dei delle piccole valuminazioni ai parchi pubblici e invece due vasche nuove di piccola laminazione che sostanzialmente tengono conto del fatto che la Paola Fabri è una delle zone più basse sostanzialmente di tutta con il sollevamento il sollevamento attraverso il sifone lo sgravamento eh nella nei laghetti sarebbe un'operazione che aveva già in mente il comune che a questo punto quindi viene rafforzata l'idea e la bontà di quella proposta sono aree che attualmente sono di proprietà dell'ASP che sono eh a fianco al bosco urbano quindi sarebbe che tutto quell'area lì va a servizio diciamo per un migliore ehm alleggerimento direi così della del del deflusso delle acque perché il diversivo in valle come vi hanno detto anch'esso è molto basso quindi abbiamo tutta una questione di portatori d'acqua che portano fuori l'acqua verso verso i canali d'estrareno che ha giacitura molto bassa questo era per darvi senso eh io ringrazio perché è stato un lavoro veramente complesso cioè abbiamo messo a punto secondo me anche un bel modello di azione locale che vede chiaramente tutti gli attori coinvolti e portatori di un pezzo di conoscenza del territorio mi dispiace che stasera non siano presenti tranne Eliana che è in collegamento le forze di forze di minoranza di opposizione però diciamo avevamo avevamo in animo di fare questa cosa anche perché è propedeutica poi a a dare conto al consiglio comunale quindi ai 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 consiglieri eletti dei cittadini del lavoro che stiamo svolgendo con l'amministrazione e quindi io vi chiederei se avete delle domande da fare delle osservazioni a riguardo poi eh successivamente chiederei alla approfittirei della presenza dell'ingegner Silvani se ci fa un po' il punto sulla sui lavori soprattutto e sulle proposte che il consorzio intende portare avanti quindi ne approfittiamo a latere eh rispetto alla messa in sicurezza idraulica del nostro territorio quindi a partire dal canale d'estrareno e gli altri manufatti che sono eh diciamo utili per lo smaltimento delle nostre acque consiglieri se chiedono di intervenire la capogruppo di Rita Brignani sì innanzitutto un grazie per il lavoro svolto era doveroso eh una restituzione di quanto chiesto perché ovviamente nei mesi eh non è che è passato cerchiamo di andare avanti ma le soluzioni le cerchiamo tutte le immaginiamo tutte ed è giusto averle invece davanti a con con dati e numeri che che ne che ne determinano l'efficacia perché ognuno può pensare ciò che vuole ma poi sono i numeri quelli che contano ed è impressionante quella piantina che fa vedere un territorio urbano praticamente nei livelli più bassi insomma eh del del territorio detto questo ci sono delle soluzioni bene ottimo nel senso sono soluzioni tecniche immagino scelte in mezzo a varie 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 proposte ehm e questo va bene e come consiglio comunale eh abbiamo già eh espresso la nostra la 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 il nostro sostegno all'amministrazione alla giunta perché cerchi in tutti i modi di portare avanti non solo lo studio di quelle che sono le criticità del territorio ma anche appunto di proporre le soluzioni per la ricerca di finanziamenti che eh servono per poterle poi realizzare l'abbiamo fatto con un documento unitario e quindi adesso spiace non ci sono le le forze deposizioni cresenti ma però produrremo per il prossimo consiglio un ordine del giorno a questo punto dove chiederemo nuovamente a elencando quelli che sono i progetti e le le proposte arrivate questa sera all'amministrazione di insistere di continuare a presentare queste queste proposte di di soluzione eh in tutti gli ambiti possibili e in tutti gli ambiti eh che si proporranno eh fa piacere sentire parlare finalmente di un lavoro eh come di coordinato poi interferenze non interferenze chiamiamole congiunzioni no? Però è chiaro che eh l'alluvione di maggio eh almeno dal punto di da un punto di vista tecnico sono un ingegnere meccanico anch'io mi ritrovo anch'io a lavorare in queste situazioni qua eh è sempre l'insieme che che fa la forza poi nel dettaglio ognuno avrà i suoi campi l'aver finalmente sentito parlare eh in maniera coordinata di problematiche di soluzioni adottate in maniera coordinata è già anche questo un grossissimo passo avanti perché eh non c'è dubbio che eh un rimbalzo di di responsabilità eccetera non fa altro che eh come dire aumentare la tensione e eh eh allontanare quel quel senso di tranquillità mentre così almeno insomma il lavoro di equip è un lavoro che che finalmente dai suoi frutti ha portato quantomeno delle proposte di di soluzioni quindi ancora grazie e poi presenteremo al consiglio agli altri gruppi consigliari un del giorno per portare avanti questo lavoro grazie una capogruppo brignani credo che sia utile avere tutto il consiglio quindi la prossima il prossimo consiglio se si esprime questo punto di forza sostegno credo che sia utile per tutti quanti la panfiglia ha chiesto di parlare prese diana prego grazie buonasera a tutti ehm anche io volevo sottolineare mh come sia uno studio interessante e utile eh ho sentito parlare di paratie di cassi di espansione eh quindi insomma di di termini tecnici che che presumono appunto un lavoro eh da realizzare e si spera anche da realizzare in tempo in tempi brevi perché il nostro è un territorio purtroppo che è stato segnato da uno degli eventi più più disastrosi insomma sicuramente degli ultimi decenni secondo me e quindi c'è da fare in fretta io sono concordo con la capogruppo brignani su questo ordine del giorno da presentare prossimo consiglio spero che ci siano anche gli altri colleghi eh di opposizione perché è importante dare un segnale diciamo di unità è un segnale che questo consiglio ha lavorato e sta lavorando proprio per eh la realizzazione della messa in sicurezza di questo territorio poi sappiamo che questo consiglio questa amministrazione insomma sta volgendo al termine ma bisogna lasciare un segno e il segno oltre che della maggioranza deve essere anche dell'opposizione insomma bisogna lasciare in mano a chi verrà tutti gli strumenti utili per poi porre veramente come devo dire arrivare al fine insomma utile della del ripeto della messa in sicurezza ecco grazie grazie consigliera panfiglio mi sembra che sia un appello corale giusto e se siete d'accordo io chiederei all'ingegnere silvani se ci fa una veloce riepilogo su quelle che sono le gli interventi chiaramente parliamo della consorzio di bonifica quindi della rete mi sono scordata di Mauro Lachini chiedo scusa scusami ma sono senza occhiali se me ne rimetto e i consiglieri Marco Mauro Lachini mi ha chiesto di parlare se Paolo ma chiedo grazie sindaco nell'incontro di luglio si era parlato di via Nullo Baldini che era stata interessata da un importante ingresso di acqua che aveva poi interessato tutta quanta la zona dell'acquedotto se era stato detto che c'erano degli interventi che si potevano fare adesso non so se mi è sfuggito se sono stati fatti conosco anche una situazione lì in via Guberta di una via un apparatoio a San Patrizio se sono stati previsti o sono già stati fatti degli interventi eccomi no allora gli interventi sui clapè sono quelli che avevamo messo in campo primariamente nella parte a nord dell'abitato in particolare quella che della zona di Nullo Baldini e ora lì abbiamo approfondito come era stata la dinamica dell'evento non avevamo poi parlato confermiamo quello che avevamo detto nella sede del chiaramente dell'incontro precedente nel senso che c'è stata chiaramente una piena arrivata dai campi in quella situazione e qualsiasi valvola capè in quella situazione lì non avrebbe cambiato la dinamica dell'evento quello che abbiamo fatto è stato comunque di rafforzare come ben detto abbiamo ripristinato le valvole che erano risultate danneggiate a seguito dell'alluvione quindi la zona lì a nord adesso presente delle valvole nuove con l'accortezza del fatto che era una mossa diciamo che bisogna andava presa con le dovute cautele perché siamo in presenza in territorio con pendenze estremamente ridotte quindi avere una valvola a clapè con un battente idrico non particolarmente importante a monte è comunque anche un elemento di diciamo di affaticamento per quello che è il drenaggio perché comunque non permette un deflusso delle acque agevole abbiamo messo in quelle aree che secondo noi potevano dare un piccolo miglioramento pur non proteggendo nel caso l'evento alluvionale delle valvole queste tre valvole aggiuntive che poi realtà in quattro parte erano già presenti ma state divelte dall'alluvione e lì sono state poste anche nel ridosso dell'acquedotto è stato fatto un intervento di ripristino della situazione di clapè e anche lì si è intervenuti comunque quello che avevamo detto come opere poi il referente principale del servizio è dogni però queste sono le opere mi pare poi sindaco che abbiamo messo in campo vedeva via guberta e san patrizio sono ancora quella è quella parte che diceva prima l'ingegnere ferri che è stata semplificata che non è stata studiata diciamo alla stessa stregua di con selice centro e così comunque ce la notiamo è una di quelle che avevamo già segnalato perché poi nel fare questo lavoro siamo siamo anche risaliti alle varie segnalazioni che come comune avevamo fatto in questi anni per dare il senso di dove venivano gli allagamenti e se c'era una questione locale da risolvere insomma quindi questo tipo di attenzione la continueremo ad avere ci tengo anche a precisare che abbiamo agito anche in somma urgenza rifacendo i fossi scommatori i fossi scommatori nella rete che hanno individuato prima l'ingegnere ferri sono quelli che collegano sostanzialmente diciamo le le aree in parte asservite con il sistema fognario lo collegano ad altri pezzi per lo scollo delle delle acque quindi sono tratte anche importanti cioè faccio un esempio da chiesa nuova per arrivare a arrivare fino a arrivare al depuratore si passa attraverso dei fossi scommatori poi si si introduce tutto attraverso anche il sistema e sistema invece fognario vero e proprio quindi questo è anche un lavoro importante che è stato fatto e quindi diciamo i suoi questi sono stati gli interventi urgenti come altri interventi urgenti è stato la messa in sicurezza del potabilizzatore che era l'altra grande emergenza a cui abbiamo chiesto conto da subito ad era e qui ritorneremo a chiedere conto anche il consiglio poi l'aveva espresso in tal senso perché noi pensiamo che lì uno studio per spostarlo sarebbe opportuno però ripeto ci garantiscono che adesso è stato maggiormente messo in sicurezza se siete d'accordo che non ci sono altre domande chiedo scusa quindi approfitterei della presenza dell'ingegner silvani se ci fa un rapido resoconto insomma della situazione sulla per quanto riguarda la rete consorziale certamente approfitto dell'occasione anche per far vedere i lavori in corso e le prospettive quella che ho qui ed sono un insieme di slide ma sarò velocissima è la presentazione che ho portato al piano per i piani straordinari al tavolo che la regione ha creato con l'ambi che la nostra associazione nazionale regionale la regione stessa con servizio difesa del suolo e bonifica la l'agenzia di protezione civile in questo caso la parte tecnica quella che una volta era la parte di servizio tecnico di bacino chiameremo e soprattutto l'autorità di bacino che oggi è l'autorità distrittuale del po quindi un'età un'autorità molto estesa focalizzata sul po e che solo recentemente acquisito anche territori del segno santerno quindi dei nostri fiumi e che sta approfondendo gli studi quindi in questo tavolo che nasce come tavolo per risolvere i problemi dei fiumi post all'uvione maggio 2023 perché è lì il focus principale e quelle acque non devono arrivare sul nostro territorio quindi anche noi come bonifica siamo d'accordo che il focus deve essere sui fiumi perché questo evento non si ripeta detto questo però chiarito che sono i nostri territori hanno anche delle criticità che comunque erano preesistenti c'è stata l'occasione per condividere sia un ragionamento sulla morfologia del nostro territorio sia su quelle che potrebbero essere le opere per il miglioramento della situazione velocissimamente come dicevo distretto di pianura del consorzio di bonifica romagna occidentale parliamo solo di reti artificiali di canali per lo smaltimento delle acque meteoriche attraversati dei fiumi che ci attraversano completamente pensili e quindi non non abbiamo interferenze con la rete primaria se non in alcuni punti di cui parlerò alla fine salto naturalmente tutta la parte di bonifica per arrivare a descrivere quello che è stato l'evento di maggio per il nostro territorio quindi un territorio che è più basso rispetto ai fiumi più basso anche rispetto ad alcuni canali arginati ma con queste proporzioni quindi tra fiumi canali consortili anche collettori e canali consortili in trincea con un territorio che va dai 40 metri sul livello del mare fino a abbiamo visto con 16 3 metri abbiamo delle zone anche pari al livello del mare sotto e quindi in parte gestiti a gravità e in parte gestiti invece sotto macchina quindi territori che scolano solo se se il recettore che è il canale di bonifica in destra di reno che è il canale di gronda di questo territorio e del canale che va a collettare tutte le acque che piovono dalla via miglia fino a reno ecco che alcuni territori sono più bassi quindi nel canale bonifica le acque ci vanno solo attraverso gli impianti idrovoli salto queste parti che sono forse scontate per questo territorio ma che per l'autorità di bacino non lo erano assolutamente quali sono le opere che negli ultimi anni abbiamo proposto realizzato per migliorare la resilienza contro le alluvioni fondamentalmente le casse di espansione quindi a parte la soluzione di restringimenti puntuali problematiche puntuali quello che può dare un respiro alla rete di bonifica sono casse di espansione cioè casse che permettano lo stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche nel momento in cui c'è la pena e poi il loro rilascio successivo parliamo di ordini grandezza completamente diverse rispetto a quelle che serviranno nei fiumi però dal punto di vista idraulico il funzionamento è lo stesso casse di espansione che come sappiamo possono avere funzionamenti diversi questo è rendering di quella che stiamo realizzando siamo partiti adesso con i lavori col pnr nella valle di bagnacavallo di villa prati logicamente sono casse di espansione che non possono farsi carico di quantità d'acqua come quelle fuoriuscite dei fiumi a maggio 2023 maggio 2023 quando su un territorio di pianura di 80 mila chilometri quadrati ne abbiamo visti allagati 28 mila quindi un terzo del nostro territorio nostro intendo quello gestito dal consorzio di bonifica romagna occidentale un terzo del territorio alluvionato quindi un volume di acqua da gestire che è assolutamente sproporzionato rispetto ai volumi che possiamo gestire per una pioggia per farvi capire per dare un ordine di grandezza di numeri 400 milioni di metri cubi abbiamo ipotizzato che equivalgono a circa 900 millimetri di pioggia in qualche giorno allora sindaco noi con 50 millimetri ci muoviamo con 100 millimetri ci sentiamo anche questi sindaci le 900 millimetri sono veramente un volume fuori misura questo perché ed è chiaro anche a chi sta facendo questi piani straordinari non possiamo ipotizzare le nuove strutture di bonifica per far fronte a questo cioè non deve essere questo l'evento di riferimento però doveva essere anche chiaro come il territorio ha subito questo questo evento quali sono le le cose che abbiamo fatto e che faremo intanto torno indietro che si vedeva meglio in questa slide in questa slide si vede tutto il reticolo di bonifica in azzurro quello che non è stato interessato all'alluvione in rosso abbiamo evidenziato i canali di bonifica che sono stati alluvionati quindi al pari delle infrastrutture strade case reti di vario genere anche le reti di bonifica sono state a tutti gli effetti alluvionati quindi canali che si sono fatti carico di smaltire portate oltre i livelli che dei quali dovrebbero farsi carico argini che si sono fatti carico di livelli a franco zero cioè canali completamente pieni per molti molti giorni questo significa dal punto di vista della geotecnica della struttura di questi canali e di questi argini che in alcuni casi hanno rotto e sono rotture che abbiamo ripristinato non appena si è potuto intervenire o quando era giusto intervenire abbiamo anche lasciato delle rotture aperte per qualche giorno per poterle usare al contrario quindi quando avevamo più acqua in campagna rispetto al canale per farle defluire quindi i primissimi interventi sono stati quelli in emergenza per chiudere le rotture e ripristinare il funzionamento degli impianti idrovori e rigui perché non dimentichiamo che al 23 maggio noi avevamo già richieste di avvio della stagione in rigua perché la parte di territorio che non si era alluvionata chiedeva l'avvio anche del servizio in riguo in questo territorio quindi primi interventi urgenti fatti nei primissimi mesi dopo l'alluvione necessità di studiare e capire come proseguire con gli interventi c'è da dire che i primi interventi il consorzio li ha fatti senza vedere luci di finanziamento cioè fino ad agosto 2023 il consorzio si è mosso esponendosi per circa 5 milioni di euro proprio per tutti questi interventi che non si potevano non fare ma con firme del presidente o di noi tecnici a fronte di chissà se arriveranno finanziamenti che però sono arrivati sono arrivati anche finanziamenti importanti perché con le ordinanze dell'agosto quindi la 6 del 2023 sono arrivati per lavori di sommorgenze sul territorio romano occidentale 90 milioni di euro sapete che le ordinanze si dividono tra lavori sommorgenza urgenza eccetera e noi abbiamo candidato tutte queste opere anche con la condivisione con la regione miglia armagna tra le opere di sommorgenza questo ci permette di lavorare in maniera molto speditiva dal punto di vista delle gare d'appalto e della progettazione progettazione che però comunque è necessaria cioè mentre per chiudere un argine risolvere un problema puntuale siamo potuti intervenire subito scavatori movimento terra materiale per andare a ripristinare un argine su chilometri di intervento andare a ripristinare una livelletta di fondo su chilometri di intervento non potevamo farlo occhi chiusi mandando mezzi di movimento terra è stato necessario un importante e per il consorzio anche una grandissima novità campagna di rilievi che abbiamo fatto in piccola parte con gli strumenti tradizionali e topografi interni e esterni con i quali collaboriamo da tempo ma per la maggior parte una campagna di rilievi fatte con le nuove tecnologie quindi elicotteri, droni e battimetrie che ci hanno permesso in pochi mesi di acquisire quelle che si chiamano nuvole di punti quindi una conoscenza puntuale georeferenziata di tutto il canale argini e fondo anche dove avevamo presenza di acqua vi dico che è una cosa che dieci anni fa non era assolutamente scontata e questo è l'importante finanziamento dato dalle sommorgenze che coprono anche questo tipo di spese generali e la necessità assoluta di avere queste informazioni in tempi brevi ha fatto sì che sulla maggior parte di quei canali che vedete disegnati in rosso e specialmente sui collettori sia stato fatto un'importante campagna di rilievi ad oggi sono in corso le progettazioni semplificate perché parliamo di sommorgenze però comunque livellette e sezioni tipo bisogna studiarle anche perché stiamo partendo invece con quelli che sono i lavori di ripristino più importanti quindi alcuni sono già cantierizzati a breve partiremo con lo zaniolo in parte destra reno stiamo siamo già intervenuti stiamo intervenendo quindi per andare a ripristinare quegli argini che hanno avuto gravi problemi di stabilità magari hanno tenuto però passata la pena hanno delle fussurazioni hanno delle erosioni importanti hanno avuto dei fontanazzi nei quali bisogna intervenire andando a demolire ricostruire l'argine quindi una serie di lavori che noi andremo a realizzare nell'arco del 2020 24 con l'interferenza della stagione in rigua perché la maggior parte dei canali di unifica nel territorio a valle del cer sono canali che sono anche utilizzati a scopo in riguo quindi sono cantieri di non semplice gestione e se da un lato riusciamo a cantierizzarli abbastanza velocemente quindi nell'arco di cinque mesi siamo riusciti a fare rilievi progettazioni e le gare che stanno venendo assegnate adesso l'esecuzione ci vorrà qualche mese in più proprio per questa interferenza e contiamo tra fine anno insomma intorno a fine anno di essere a buon punto con con questi lavori sono urgenze ordinanze della struttura commissariale per il ripristino cioè per riparare i danni dell'alluvione e può riportarsi a livello di maggio 2023 il tavolo dei piani straordinari ci permette di proporre anche delle opere nuove per migliorare la situazione rispetto a quella che era maggio 2023 mi ripeto quindi opere che non saranno utili purtroppo nel caso di un ripetersi un evento di questo tipo per opere comunque sul territorio erano già pensate note alcune sono nel cassetti del consorzio dal 96 come opere che si sa che possono essere utili per il miglioramento della resilienza contro le alluvioni e che non sono mai state finanziate quindi faccio l'esempio della cassa secchezza e quindi esco dal territorio ma per dare un esempio dei tempi nel 1996 che è l'anno dell'alluvione storica per questi territori avevamo predisposto per il reparto canalvela una serie di interventi divisi in cinque lotti ce ne hanno finanziati tre ci siamo fermati il quarto è quello che candidiamo adesso nel 2024 quindi le opere che secondo noi possono essere utili per questi territori sono in primis una cassa che chiamiamo cassa daniolo quindi utilizzare le parti più basse del nostro territorio in sinistra in destra daniolo per abbassare i livelli del collettore che è poi l'origine del destra di reno quindi è una di quelle opere che va soprattutto a sgravare il destra di reno all'origine quindi permettere poi a tutti gli altri affluenti e agli impianti che al destra di reno affluiscono di lavorare meglio poi sicuramente la manutenzione straordinaria della chiavica bastia la realizzazione di una cassa che noi chiamiamo cassa nerina quindi siamo di là dal santerno quindi nel territorio che si trova tra il santerno il segno nel reparto canal vela ma anche qui una cassa di espansione che può abbassare i livelli del destra di reno a beneficio di tutta l'asta del destra di reno la cassa secchezzo che citavo prima il tavolo in regione e davanti all'autorità di bacino è stato utile anche per condividere un altro tipologia di opere che probabilmente non entreranno in questi piani straordinari ma la cui progettazione stiamo candidando a a un fondo europeo con attraverso la bassa romagna che ha raccolto insieme tantissimi attori un progetto life e sarebbe la creazione di connessioni tra la rete secondaria di bonifica ogni canale bonifica in destra di reno e i fiumi seno e santerno quindi quello che abbiamo fatto in emergenza con pochi metri cubi al secondo sgravare il destra di reno immettendo acqua a gravità quando le quote lo permettono o pompando all'interno dei fiumi e anche se l'idea ai funzionari di zona che gestiscono i fiumi non era piaciuta tantissimo dico la verità parlandone con l'autorità di bacino del po e quindi con uno sguardo diciamo più di insieme è palese che sgravare il destra di reno di 10 20 metri cubi al secondo in due opere di questo tipo al destra di reno darebbe un beneficio importante parliamo di un canale che riesce a smaltire circa 150 metri cubi al secondo quindi togliendone 10 20 andiamo a parlare di percentuali importanti per il suo funzionamento ecco che in un santerno in un segno li fanno il sollettico quindi non sono influenti per quello che possono essere le piene di quei fiumi quindi fondamentalmente le opere che stiamo candidando ai piani straordinari le ripeto la cassa zaniolo non è in comune di alfonsino scusato sbagliato siamo a ferrare argento la cassa secchezzo che questa è disegnata a mano perché è da un po che nei cassetti del consorzio e la cassa nerina che è quella che dicevo è di fronte all'idrovora trattura e darebbe beneficio a tutta l'asta del destra reno grazie infinite e quindi speriamo vengano accolte tutte queste proposte costituiscono con un pezzo di finanziamento di quella di quel lavoro ben sapendo che per mettere in sicurezza i fiumi che ci attraversano bisogna che sia risolto molta parte del trattenimento delle d'acqua monte rispetto a noi e io vi ringrazio molto e questi documenti vediamo come possiamo renderli pubblici in modo che siano fruibili dalle persone e poi continuiamo a lavorare per raggiungere l'obiettivo comune di trovare la copertura a questi interventi ritenuti a nostro parere importanti per tutti i territori grazie infinite grazie grazie allora proseguiamo con ai lavori del nostro consiglio ringrazio dice la dottoressa tonelli che è ancora collegata il punto numero 3 la variazione al bilancio di previsione 2024 2026 senza articolo 175 comma 2 del decreto legislativo 267 2000 allora è una proposta di variazione che è stata presentata da capigruppo sostanzialmente dico solo due cose poi lascio la parola al dottoressa tonelli noi abbiamo voluto anticipare l'approvazione del bilancio preventivo per permettere all'ente di essere subito operativo è chiaro che sappiamo che il bilancio deve deve come dire devono essere apportate le variazioni necessarie per tenere conto di quelle che sono stati gli aggiornamenti in corso in questo caso diciamo che questa variazione tiene conto di risorse straordinarie per l'alluvione che sono di varia deliberazione ci sono tiene conto delle donazioni ricevute del loro vincolo e tiene conto anche di finanziamenti in entrata del pnrr e altri aggiustamenti in entrata copertura di spese quindi darei la parola a dottoressa tonelli grazie buonasera grazie e come diceva il sindaco la variazione è già stata esaminata in anche in capigruppo e non so se vedete ok lo schermo perché così l'ho condivisa condiviso lo schermo e diciamo sarò breve sulle voci principali perché ci sono anche una serie di aggiustamenti che non che non non cito perché sono veramente di esiguo importo e diciamo la cosa più eclatante della variazione che è una variazione tutto sommato molto semplice sono questo trasferimento dalla regione per gli interventi sociali post alluvione come da delibera regionale 2078 del 27 11 2023 che appunto erogano al comune di consegno un contributo pari a 379 mila 403,31 euro che vengono trasferiti all'unione dei comuni della bassa romagna per appunto il servizio conferito sociale associato che appunto si occuperà di di poi stanziare queste risorse e poi abbiamo appunto degli aggiustamenti tra di capitoli tra il servizio cultura e servizio segreteria abbiamo una economia del servizio personale per 8.350 euro a seguito delle dimissioni del del vice sindaco fabbri poi abbiamo una maggiore entrata del 2024 del canone idrico di 16.237 euro e una maggiore spesa per agio sorit di 15.000 euro segnalata dall'ufficio entrate dopodichè ci sono una serie di investimenti pnrr che sostanzialmente non sono vengono re imputati nell'annualità 2024 ne avevamo già parlato perché erano già stanziate a bilancio 2023 ma alcuni di questi finanziamenti sono slittati e quindi abbiamo i 13.425 euro per l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali digitali e speed abbiamo 15.000 euro circa per quanto riguarda l'adozione della piattaforma pago PA 93.268 euro per l'esperienza dei servizi al cittadino nei servizi pubblici poi ci sono 10.156 legati alla piattaforma digitale nazionale dati 37.994 per l'abilitazione al cloud per le PA locali sostanzialmente si tratta di risorse che pnrr in totale 170.050.48 mila euro che vengono trasferite al servizio informatico dell'unione che appunto si occuperà di questi stanziamenti abbiamo un ulteriore fondo accertamento legato al pnrr per l'acquisto di un programma ele web dell'ufficio elettorale per 1220 euro poi appunto abbiamo una serie di aggiustamenti di capitoli elettorali che sono a saldo zero abbiamo delle donazioni di 17.375 complessivamente delle economie dell'ufficio cultura registrate per 9.400 euro e con queste risorse finanziamo 25.000 euro di spese per la cultura per il bando associato e altre maggiori spese della cultura per 3.100 euro l'ufficio tecnico ha poi evidenziato delle maggiori spese per utenze per 7.152 euro al netto di alcune economie che avevano trovato loro su dei centri di costo specifici quindi diciamo la parte questa variazione di parte corrente dell'anno 24 e 25 chiude a saldo zero dopodiché abbiamo la parte investimenti dell'annualità 2024 in cui registriamo i 340.000 euro di donazioni per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Consilice una parte era già stata introitata nel 2023 questa è la parte che abbiamo incassato con la stipula della convenzione sul 2024 abbiamo in previsione una donazione di 95.720 euro per la donazione Coppa Alleanza per la riqualificazione dei parchi pubblici una donazione di 500 euro dell'opera che è stata quantificata in 500 euro dell'opera d'arte di Babini Enzo e poi abbiamo sostanzialmente un contributo legato al decreto 187 e anche qui della giunta regionale finanziamente a seguito del fortunale 2023 di 2.300 euro per interventi da effettuare sulla pubblica illuminazione infine abbiamo un'alienazione dell'appartamento di Piazza Foresti per 67.976 euro e che chiudiamo sostanzialmente diminuendo gli oneri di parte investimenti stanziando il 10% vincolando il 10% dell'alienazione per la riduzione dei mutui e stanziando anche una parte di risorse pari a 8.950 euro per l'intervento di manutenzione straordinaria della caldaia dell'asilo nido per quanto riguarda le annualità diverse dal 2024 abbiamo una sola variazione di parte corrente nel 2025 che riguarda sempre una reimputazione del contributo PNRR al cloud per le PIA locali di 37.000 euro che sono appunto entrata da finanziamento PNRR e la spesa è prevista come trasferimento all'Unione in quanto appunto gestore del servizio associato la variazione quindi anche in questo caso si conclude in pareggio e io avrei terminato grazie dottoressa Tonelli ci sono consiglieri che chiedono chiarimenti nessuno chiede di intervenire quindi possiamo anche velocemente andare a mettere in approvazione questo punto metterei in approvazione il punto numero 3 variazione al bilancio di previsione 2024-2026 senza l'articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000 chi è favorevole in presenza alzi la mano quindi tutti i consiglieri presenti votano a favore chiedo di esprimersi alla consigliera Panfiglio è contro contraria ok serve l'immediata eseguibilità per procedere subito quindi chi è favorevole alzi la mano i consiglieri presenti votano a favore e Liana Panfiglio contraria contraria vero? sì ok grazie passiamo al punto numero grazie a dottoressa Tonelli per tutto e per aver anche aspettato fino ad ora ok grazie buona serata grazie buonasera passiamo al punto numero 4 che è il punto che tratta era SPA contratto di sindacato di VUTO di DCP di trasferimento nazionale 2024-2027 contratto di sindacato dei soci pubblici dell'area Romagna è con noi dottor Tampieri che ringrazio per la pazienza che ha esercitato fino ad essere ancora presente fra di noi si tratta di una delibera che sostanzialmente non è nuova a questo consiglio perché praticamente rinnova l'impostazione della struttura del contratto di sindacato di VUTO e disciplina i trasferimenti azionari il contratto di sindacato dei soci pubblici dell'area Romagna però per una breve esposizione lascerei la trattazione a dottor Tampieri così che i consiglieri siano ai dotti del contenuto sì, diciamo che l'abbiamo analizzato in maniera più approfondita nella Capigruppo comunque la illustro nei tratti salienti e nello scopo che ha questa convenzione innanzitutto come diceva il sindaco non è un atto una convenzione nuova in quanto attualmente è in vigore quella che fu approvata dal Consiglio Comunale di Consenso fu approvata nel mese di febbraio del 2021 e aveva decorrenza da luglio 21 al 30 giugno 24 questa convenzione e appunto andando a scadenza si va a proporre il rinnovo nei medesimi termini di quella attualmente in vigore non c'è nessuna proprio nessuna differenza sostanziale ma anche per questo formale cambiano solo alcuni firmatari di questa convenzione non c'è nulla di nuovo che cos'è probabilmente lo scopo di questi due sono due contratti di sindacato uno cosiddetto di primo livello e uno del secondo livello che è più ampio perché è composto da tutti i legali rappresentanti gli accordi degli enti soci sono questi contratti di sindacato sono degli accordi fra i soci fra una categoria dei soci in questo caso è per quanto riguarda quello di primo livello è un accordo fra tutti i soci pubblici di era per lo scopo è quello di coordinarsi per andare appunto a determinare da una parte le modalità di voto e da una parte il sindacato di voto la circolazione delle azioni quindi il sindacato di blocco per appunto consentire a questa categoria di soci ai soci pubblici il controllo sulla società questo perché da un lato vincolando la circolazione delle azioni da soci pubblici a soci privati si garantisce una maggioranza di fatto pubblica dall'alto andando a definire come i soci pubblici andranno a votare in alcuni argomenti delle assemblee che sono poi quelli che riguardano la vita strategica della società quindi tutti gli argomenti delle assemblee straordinarie e la governance in quanto all'interno di questo comitato che è l'organo previsto da questo contratto che è composto per quanto riguarda il primo livello da 11 membri che sono in rappresentanza di tutti i soci sono i soci principali che rappresentano poi il territorio di riferimento quindi questo comitato si riunisce prima di ogni assemblea definisce come votare e nelle assemblee straordinarie e nelle assemblee invece per quanto riguarda quelle ordinarie che riguardo alla governance quindi quando viene posto all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel Collegio dei Revisori i soci pubblici si riuniscono prima dell'assemblea e definiscono quale lista può porre quindi avendo di fatto la maggioranza e poi anche la lista che verrà eletta quando ci sarà l'assemblea dei soci per quanto riguarda la nostra area all'interno del Consiglio di Amministrazione il comitato propone quattro componenti che sono disegnati dagli azionisti dell'area territoriale Romagna tra i quattro a cui rientra anche il comune di Consene c'è non solo i comuni dell'area diciamo Ravenna Holding e Ravenna Holding Romagna ma anche i comuni dell'area dell'area Conami rientrano nella territoriale Romagna e questo è quindi lo scopo del sindacato di voto per quanto riguarda il sindacato di blocco invece come dicevo prima i soci vanno a vincolare un certo numero di azioni le vincono in maniera tale che possono essere cedute solo ed esclusivamente da altri soci pubblici per garantire la maggioranza di fatto pubblica il comune di Conselice ha 213.000 azioni e vincola in questo sindacato di blocco 156.000 azioni vuol dire che 156.000 le può vendere solo a soci pubblici le altre teoricamente le potrebbe vendere anche sul mercato e questo è il sindacato di primo livello il comune di secondo livello è un'articolazione più puntuale con lo stesso scopo nel senso se il primo i rappresentanti del primo erano 11 che sono i rappresentanti dei soci principali pure i rappresentanti del territorio di riferimento il sindacato dell'area Romagna che è composto in questo caso è composto da tutti i legali rappresentanti dell'area Romagna e si riunisce prima nell'assemblea ma anche prima del primo comitato per andare a informare e appunto a indicare alla rappresentante al territorio del comitato del primo livello la propria opinione e questo è lo scopo e il funzionamento detto molto in sintesi di questo di questo contratto che come dicevo è il speculare a quello attualmente in vigore grazie dottor Tampieri ci sono delle domande possiamo procedere quindi direttamente al voto allora metto in approvazione il punto numero 4 RSPA contratto di sindacato di voto di disciplina di trasferimento azionale del 2024-2027 contratto di sindacato dei soci pubblici dell'area Romagna chi vota a favore alzi la mano i consiglieri presenti in aula votano a favore consigliera Panfiglio mi attengo ok si è astenuta serve l'immediata eservibilità anche per questa delibera chi è favorevole alzi la mano i consiglieri presenti votano a favore consigliera Panfiglio mi attengo ok grazie grazie dottor Tampieri grazie buona serata passiamo al punto numero 5 è un atto di indirizzo finalizzato all'intesa regionale per l'approvazione del progetto definitivo di ottimizzazione metanodotto Sestino Minebio denominato 1200 con altre sigle della SNAM rete gas SPA nel comune di Conselice allora sono andata a riprendermi noi su questa infrastruttura ci siamo espressi come consiglio comunale il 25 novembre 2014 che eravamo giovani ed era legata all'espressione di parere di verifiche di conformità urbanistica dell'infrastruttura quindi come per dire che questa opera viene da lontano quello che dobbiamo fare adesso è esattamente come dire uno degli atti che servono per la sua parte più operativa più diciamo definitiva come fosse un progetto diciamo definitivo sostanzialmente con questo atto di dato con questo atto quindi con quello che noi andiamo andiamo a procedere non facciamo altro che esprimere ai sensi dell'articolo 9 un parere favorevole rispetto al fatto che rispetto agli strumenti urbanistici che già avevano recepito il tracciato avevano già recepito le parti diciamo di salvaguardia c'è la posizione del vincolo espropriativo quindi questo è l'atto che serve per fare questo tipo di operazione naturalmente tutto il punto è stato presentato dall'architetto Poggioli stasera non è potuto essere presente perché era impegnato in un altro consiglio mi sentirei di dire che anche in capogruppo sia stato abbondantemente affrontato il tema sostanzialmente quindi c'è una miglior definizione di quelle che sono le zone di cantiere le zone di qualche modo che vengono che sono utili all'avanzamento dell'opera non so se i consiglieri vogliono chiedere di qualcos'altro per quel che sono in grado rispondo chiedo alla consigliera Panfiglio che rappresenta se si sente soddisfatta con la presentazione che è stata fatta in capigruppo sì assolutamente sì ecco allora io direi che possiamo procedere di mettere in approvazione questo punto che è il punto numero 5 atto di indirizzo finalizzato all'intesa regionale per l'approvazione del progetto definitivo di ottimizzazione metanodotto sestino minervio nel comune di consegge che è favorevole alzi la mano il gruppo i consiglieri presenti in aula votano a favore consigliera Panfiglio mi astengo benissimo e serve l'immediata eseguibilità che è favorevole alzi la mano i consiglieri presenti votano a favore lei consigliera Panfiglio voto di astensione grazie è approvato anche questo adesso passiamo al punto dell'interrogazione degli ordini del giorno il gruppo di maggioranza presenta in consiglio un ordine del giorno che ha depositato oggi mi sembra oggi quindi ho la parola alla consigliera capogruppo Berignani Rita grazie sindaco inizio con una notte un po' così nel senso magari le prossime a giro amministrativo cambiare l'ordine del giorno non è male perché è la politica che determina quelle che sono le delibere poi dell'amministrazione e se tutte le volte che andiamo a parlare degli argomenti che toccano un po' più il vivere di tutti non c'è poi nessuno non è una bella cosa non è una bella cosa perché poi si assistono quelle che sono le scene che abbiamo visto in questi giorni che fanno male che fanno male alla nostra democrazia che fanno male al vivere comune e che fanno male soprattutto nei confronti di ragazzi a cui chiediamo una partecipazione alla vita civile alla vita politica del paese per farlo crescere per dare loro per dare il loro contributo nella vita appunto di questo paese e quando lo fanno e lo fanno in maniera pacifica quello che si che si ritrovano davanti è una storpiatura di quelli che sono addirittura i principi costituzionali mi riferisco ai fatti ovviamente che sono accaduti venerdì mattina a Pisa e a Firenze dove una manifestazione pacifica di ragazzi delle superiori e dell'università è stata repressa con manganellate facendo scudo da parte dei ministri del governo anzi il ministro dell'interno è l'unico che ha parlato dall'altra parte nessun altro se non per per sciocchezze ha ritenuto di dover intervenire e di dover specificare quello che prevede la nostra costituzione l'articolo 17 della nostra costituzione dice che tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi a condizioni che la riunione sia pacifica e senza armi non è prevista alcuna autorizzazione al di là di quello che il ministro dell'interno da giorni e i suoi compari di partito da giorni vanno dicendo l'articolo della costituzione prevede che le manifestazioni delle manifestazioni sia dato un preavviso e come scriviamo nel testo dell'ordine del giorno il preavviso non è affatto una richiesta di autorizzazione il principio è quindi il diritto l'eccezione è il divieto che può essere disposto eccezionalmente solo con un provvedimento motivato in relazione a comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica e se questo non bastasse il presidente della Repubblica Mattarella non con un semplice richiamo ma in maniera diciamo molto chiara e molto netto un fatto inusuale di solito si parla di moro a suasion qui mi pare che sia stata una telefonata molto chiara deve ricordare al ministro degli interni che non è con i manganelli che si definisce l'autorità di un'istituzione ma soprattutto non è con i manganelli che si insegna si 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 dà l'esempio di un paese civile e di una forza dell'ordine che dovrebbe tenere assieme da una parte l'ordine pubblico certo ma dall'altra anche il rispetto dei diritti costituzionali lo facciamo l'abbiamo presentato con urgenza perché riteniamo che questi fatti che si stanno ripetendo come gocce una volta ogni tanto stanno creando nel paese un clima veramente pesante soprattutto stanno creando un un senso di insicurezza che minano alle basi la vita democratica del paese basata sul confronto basata sull'esposizione dell'idea basata sulla discussione che può essere anche molto feroce questo non è ma deve rimanere all'interno dell'ambito costituzionale lo facciamo quindi per dare un segnale speravamo da parte del consiglio comunale di Consigli c'è tutto ma così non è però deve essere chiaro che Consigli c'è il suo consiglio comunale quindi l'istituzione che lo rappresenta perché è eletta dai cittadini non può non diciamo lavorare e non sostenere quelli che sono i principi come dicevo sanciti dalla nostra costituzione e che a quanto pare neanche i ministri del governo conoscono appieno allora io direi così l'ordine del giorno che è stato presentato è chiaramente di attualità quindi e la discussione e l'approvazione rimandiamo al prossimo consiglio per me va bene io volevo solo aggiungere a quello che ha detto se il consiglio vuole decidere altro nell'autonomia del consiglio la capogruppo Brignani cosa dice vediamo no chiediamo il parere l'unica presente di opposizione è Eliana tu Eliana saresti d'accordo per discuterlo e per approvarlo o non approvarlo stasera per me va bene anche stasera come 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 vuole la capogruppo Brignani come pensa possa essere meglio per per il consiglio se i consiglieri all'unanimità ritengono che si possa discutere e mettere in approvazione l'ordine del giorno lo facciamo perché vista l'attualità ha senso farlo adesso non tra un mese lo capisco se siamo tutti d'accordo si può procedere in questo modo perché non c'è nulla in contrario nel senso che è il consiglio che si esprime prego io dico solo una cosa al di là cioè l'importanza dell'attualità il segnale secondo me va dato adesso detto questo mancano due consigli alla fine io la sfera di cristallo non ce l'ho chi è che mi dice che al prossimo consiglio non siamo in queste stesse condizioni cosa lo rimandiamo avanti perché la gente fa i propri interessi insomma credo che prima venga il paese non è discussione politica ci siamo e già stasera è abbastanza grave che dopo tutte le assemblee dopo tutte le polemiche eccetera c'è sempre qualcosa di più importante che arriva all'ultimo minuto più di queste cose insomma non sto parlando di chi non sto parlando di chi è in casa però insomma chi ha che mi dice che la prossima volta non siamo in queste stesse condizioni scusa la prossima volta era perché il regolamento dice va presentato e va discusso nei termini siccome questo è urgente è stato presentato oggi era rispetto alla discussione non rispetto che comunque il prossimo consiglio a prescindere da chi è presente si potrebbe discutere però non toglie che se siamo tutti d'accordo lo si discute e lo si approva entro la serata che mi sembra una cosa anche salta motivata col fatto che è legata a una cosa accaduta molto grave e anche molto di attualità sì prego Danieliana non ti vedo ma mi dicono che vuoi chiesti di parola no volevo dire che concordo anch'io con quello che ha dato la capogruppo Vina ha in maggior ragione mi sembra anche abbastanza grave il fatto che non ci sono persone stasera che poi si vogliono proporre per la prossima amministrazione quindi insomma se è così l'andamento auguri ai cittadini per le prossime per chi vorrà insomma diventare consigliera ecco che se ne tragga la conclusione per il resto io per me va bene se vogliamo approvarlo anche stasera passiamo alle cose fatte bene quindi metto in approvazione il fatto che lo si discuta stasera e lo si mette in approvazione poi dopo passiamo alla seconda fase va bene così abbiamo tracciamo anche dal punto di vista documentale il percorso quindi chi è favorevole ad accogliere l'urgenza di questa discussione dell'ordine del giorno e di provvedere entro la serata a deliberarlo chi è favorevole alzi la mano quindi i consiglieri in presenza sono tutti favorevoli la consigliera Panfiglio capogruppo favorevole ok esatto di questo quindi adesso se il gruppo di maggioranza ha già l'ha proposto quindi il contenuto dell'ordine del giorno chiaramente è condensa quello che è la posizione del gruppo di maggioranza la consigliera Panfiglio ha da aggiungere qualche cosa un suo intervento io vorrei fare vorrei sottolineare questa cosa ovviamente bisogna stare anche dalla parte delle forze dell'ordine però le responsabilità vanno accertate questo insomma bisogna dirlo se c'è qualcuno che ha sbagliato bisogna andarlo individuare perché come diceva la capogruppo Brugnani c'è un articolo della Costituzione ben chiaro e preciso e va la Costituzione va rispettata è la nostra carta madre e va rispettata e però ecco per quello che mi riguarda chiaramente io devo anche sottolineare come il lavoro ecco delle forze dell'ordine sia importante comunque sempre e ripeto però se ci sono delle responsabilità si devono accertare quindi adesso io se vuole posso anche anticipare quello che io vorrei in questo caso potermi astenere ecco proprio per avere diciamo una posizione intermedia ecco se la voglio così definire poi io non so la procedura che dobbiamo seguire in questo caso no guardi mi sembra che lei sia stata molto chiara penso che anche la sua posizione sia altrettanto molto chiara quindi non c'è nessuna difficoltà credo nell'espressione che lei ha fatto che fa un richiamo anche corretto nel senso che le forze dell'ordine sono a servizio del nostro paese quindi a maggior ragione non è che si può trasferire un'onta o una responsabilità di default su tutto il sistema delle forze dell'ordine quindi le posizioni mi sono molto chiare quindi io metterei in approvazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo di maggioranza che ha appena letto che ha letto in precedenza la consigliera nel capogruppo Rita Brignani quindi chi è favorevole alzi la mano quindi i consiglieri presenti votano a favore la consigliera Panfiglio si astiene ok e io la ringrazio e ringrazio tutti i consiglieri perché credo che abbia fatto un buon lavoro spiace ripeto non abbiamo rimasto molto lavoro da fare abbiamo due consigli sicuramente uno in marzo e uno in aprile vi anticipo che in marzo sarà un consiglio che decideremo un po' che come organizzarlo perché chiuderà i lavori della commissione comunale sull'alluvione quindi la precedente relazionerà sui lavori di questa commissione e anche vediamo anche se elaborare come commissione la commissione vedrà se elaborare un documento da sottoporre al consiglio da presentare come diciamo conclusione di questi lavori vi ringrazio per la serata e buonanotte a tutti buona serata a voi grazie grazie